buongiorno a tutti siamo al periodico aggiornamento della nostra 23esima conference di orotas la world transpersonal conference che citerà in toscana nello splendido resort garden toscano il resort immerso nella pineta di fronte al mare di della riva degli etruschi san vincenzo abbiamo in poco più di 20 giorni raggiunto l'incredibile cifra di oltre 110 relatori che hanno presentato la loro candidatura provenienti da oltre 20 nazioni per ora siamo very excited e felici di questo quando ascolto con senso sentito l'avventura che sto vivendo di preparazione della conference vedo un catamarano spinto con il vento in poppa abbracciato dalla brezza degli alisei nel mari turchesi dei caraibi con il sole all'orizzonte alto nel cielo sarà un'avventura indimenticabile ne sono certo abbiamo dovuto anche ampliare gli spazi e sono qui oggi per condividere con voi una iniziativa nuova abbiamo deciso di aprire una call for performance quindi di aprire artisti musicisti cantanti poeti scrittori pittori scultori pittrici scultrici ovviamente danzatrici e chiunque altro abbia un'arte da condividere una performance da esprimere una mostra o e cerimonie chiunque sia maestro di cerimonia chiunque abbia mai condiviso guidato qualche cerimonia di quel stessi tipo è invitato a presentare la sua candidatura ci saranno ovunque mi vedo ovunque in riva al mare nella pineta negli spazi del resort o nelle sale apposite vedo ovunque eventi vedo ovunque persone che mettono in gioco se stessi condividendo showing up mostrando il proprio viaggio interiore mostrando le proprie risorse e qualità mostrando la propria arte al servizio del grande bene al servizio del grande bello al servizio della giustazione quindi al lavoro chiunque voglia presentare la sua proposta vada sul sito troverà la call for performance vi aspettiamo